Musica Telespettatori di Sella TV, buonasera, bentornati all'appuntamento con l'informazione di oggi lunedì 6 febbraio 2023. I titoli con le principali notizie del giorno. Arresto della polizia locale di Bergamo, 42 anni in manette dopo essere stato fermato con 26 dosi di cocaina ed eroina. Caso del brigatista manenti, domani a Parigi si decide sull'estradizione, da 40 anni si attende giustizia. Elezioni regionali, la campagna elettorale entra nel vivo, il PD boccia l'autonomia, a Castelli-Calepio la spinta di Giorgetti. Sarpi alla radice della crisi di iscrizioni, le motivazioni degli studenti tra materie scientifiche snobbate e carico di studio eccessivo. Atalanta passo falso contro il Sassuolo e il Tridente che fine ha fatto? In apertura alla cronaca, lo avete sentito, un altro arresto della polizia locale di Bergamo. Gli agenti hanno firmato un 42enne in zona stazione per detenzione e spaccio di stupefacenti. Decisivo l'aiuto dell'unità cinofila Tenai che nel corso di un controllo di routine nell'area attorno a Piazza Marconi ha rinvenuto 26 dosi tra eroina e cocaina. Il 42enne, già noto tra gli spacciatori come il dottore, aveva tentato la fuga alla vista della polizia, ma gli agenti sono riusciti a fermarlo proprio nei bagni della stazione mentre cercava di disfarsi delle dosi. Il giorno dopo l'uomo con precedenti è stato processato per direttissima ed è stato condannato all'obbligo di dimora nel comune di Presezzo. Ancora cronaca, cronaca nera purtroppo, Bruno Annovazzi, 83 anni, residente a Caravaggio, è stato trovato senza vita nella serata di ieri a Valtorta in un bosco sotto la sua casa di villeggiatura. Ancora ignote le cause del decesso, ma l'ipotesi più calda è che stesse svolgendo alcuni lavori al civico 16 di via Papa Giovanni XXIII, quando forse a causa di un malore sarebbe precipitato nel dirupo sottostante facendo un volo di 40 metri. A lanciare l'allarme la moglie che non lo vedeva rientrare. Il soccorso alpino è stato allertato per il recupero della Salma poco prima delle 20. Una quindicina dei tecnici impegnati che hanno recuperato il corpo dell'uomo e portato a morte. Un aggiornamento sulla rapina a mano armata avvenuta domenica scorsa a casa di Roby Facchinetti, il leader dei pool. La squadra mobile continua le indagini per risalire all'identità dei malviventi. Intanto c'è la quantificazione del bottino e un altro messaggio del cantante a tutti i suoi fan. Emergono nuovi particolari sulla rapina a casa di Roby Facchinetti, avvenuta domenica scorsa mentre il leader dei pool era in casa con la moglie e il figlio insieme alla compagna. Innanzitutto il bottino, circa 100.000 euro tra contanti e gioielli. Non sufficiente secondo i tre malviventi, sicuri che in casa ci fossero cassaforte e una preziosa collezione di orologi. Per questo hanno tenuto sotto scacco per 35 minuti Facchinetti e la sua famiglia. Volevano qualcosa in più, ma quel qualcosa non c'era e allora li hanno minacciati, fortunatamente, solo verbalmente. Poi sono fuggiti. Ma come hanno potuto entrare con tale facilità e tempismo? Su questo stanno indagando gli inquirenti che hanno monitorato le telecamere di videosorveglianza in zona via Baioni, via Lazzaretto, dove sorge l'abitazione del cantante. Da quel che si è preso, i tre sono entrati in giardino scavalcando un cancello. Poi hanno atteso che il figlio portasse fuori il cane. A quel punto, al momento di rientrare, hanno fatto irruzione in casa armati di pistole. Lungo è sentito il ringraziamento che il leader dei PUA ha voluto lasciare sul proprio profilo Facebook, rivolto ai sostenitori e a tutte le autorità che stanno lavorando per risalire all'identità dei malviventi. Dal questore Schimera al procuratore aggiunto Maria Cristina Rota fino al sindaco Giorgio Gori. Una valanga di commenti e di like hanno portato ulteriore affetto al cantante che domani sul palco di Sanremo tornerà unito con i PUA per voltare pagina e tornare a sorridere. La giudiziaria adesso con il caso Manenti. Da 40 anni si attende giustizia e domani a Parigi arriverà la sentenza sulla sua estradizione o no. Luca Cavadini. Il 29 giugno scorso l'ennesimo no all'estradizione in Italia per dieci ex terroristi rossi che negli anni di piombo tra il 70 e l'80 si macchiarono di svariati delitti. Tra di loro il bergamasco Tarcisio Manenti, condannato all'ergastolo per aver ucciso nel 1979 Giuseppe Gurrieri, l'appuntato dei carabinieri freddato in città alta davanti al figlio di 11 anni nel corso di una spedizione punitiva che aveva come obiettivo il medico delle carceri bergamasche, dottor Gualteroni. Il componente dei nuclei armati per il contropotere territoriale da 40 anni vive in Francia svolgendo varie professioni e rifacendosi una vita con moglie e tre figli. Domani a Parigi la corte di Cassazione francese si riunirà nuovamente per esprimersi sulla possibilità che Manenti e gli altri appartenenti alle sigle più sanguinose del terrorismo italiano possano scontare le loro pene in Italia. Così come nella precedente sentenza saranno presenti in aula Daniele Belotti, ex deputato della Lega da sempre impegnato nel dare il giusto risalto a questa ingiustizia europea ed il vice sindaco di Telgate, Cristian Bertoli, paese di origine di Manenti. Apriamo adesso la pagina politica. Domenica e lunedì la Lombardia va al voto e la campagna elettorale entra nel vivo. Iniziamo con la sponda PD che nel fine settimana si è riunita a Bergamo con appelli anche molto aspri contro l'autonomia. La corsa condotta a Roma dal ministro Calderoli per ottenere l'autonomia della Lombardia sta diventando l'ultimo motivo del contendere tra Fontana e Maiorino nella corsa alle regionali del 12 e 13 febbraio. Inevitabile che la riunione del PD andata in scena a Bergamo nel fine settimana si sia concentrata soprattutto su questo tema, così come sono stati inevitabili commenti negativi dal fronte centro-sinistra. Tra le critiche più aspre quella del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. Stasera racconteremo cos'è l'autonomia in questa regione, che è la più centralista che si può immaginare, cioè con nessuna relazione con i territori, dove tutto viene deciso centralmente, persino il contributo alla piccola polisportiva del piccolo paese di provincia. È una bandierina che la Lega ha voluto a tutti i costi perché è invisibile difficoltà. Sulla stessa onda anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, per ovvi motivi di competenze uguali a quelle del collega Bergamasco. Sento che se si facesse un bilancio di quello che le regioni hanno fatto in questo lungo periodo storico, non necessariamente un bilancio positivo, quindi prima di dargli altro spazio, altro ruolo, altri soldi, forse è meglio fermarsi un attimo e fare questa verifica. Infine il timbro PD di Maiorino, che ha definito la proposta di autonomia una deriva micidiale. Lo stesso Maiorino si propone però come sorpresa delle elezioni, confidando non poco sull'elettorato bergamasco. Ma io credo che siamo di fronte ad una scommessa che l'elettorato bergamasco sosterrà in buona parte, perché abbiamo una bella coalizione, una bella composizione di liste, e quindi sono fiducioso che il cambiamento in Lombardia arriverà anche... E al Castelli Caleppio invece è stata la volta della coalizione Fontana col ministro Giorgetti in visita alle imprese. Luca Cavadini. Sabato bergamasco per il ministro dell'Economia e della Finanza, Giancarlo Giorgetti, che ha fatto visita ad alcune importanti aziende eccellenze del tessuto impreditoriale del territorio. Regia a cura dell'Accademia dello Sport per la solidarietà, che ha organizzato l'incontro del ministro con un centinaio di manager. Giorgetti ha dialogato con i presenti, delineando i prossimi scenari. Cina e Russia, ma anche Stati Uniti, fanno da soli. L'Europa dovrà rispondere. L'imprenditoria bergamasca non teme confronti. Naturalmente il compito del governo è cercare di rendere le condizioni affinché chi vuole lavorare lo possa fare. E non sono soltanto decisioni nazionali, sono anche decisioni che si prendono a livello europeo, specialmente sarà una settimana molto intensa questa. Capitolo Energia, dopo il Covid, un colpo durissimo per l'industria e l'economia. Credo che il governo abbia fatto tanto, sia in forme di aiuti per le imprese e per le famiglie, ma soprattutto con l'azione decisiva che a livello europeo ha portato in qualche modo a una calmirazione dei mercati. Presente anche il governatore della Lombardia Fontana, che si è intrattenuto con alcuni dei candidati alle eminenti elezioni regionali. Ho trovato tanta gente ottimista, propositiva, che guarda al futuro con entusiasmo. Quindi la Lombardia non si fermerà, continuerà ad essere il punto di riferimento del nostro paese. Il Presidente ha fatto presente che il presunto sbilanciamento della sanità pubblica verso il privato in realtà sia frutto di manipolazione informativa. La Lombardia è al settimo posto in Italia nel rapporto letti ospedalieri accreditate col pubblico e con ospedali privati. Prima di lei anche Emilia Romagna, Lazio e Campania. Le priorità in questo momento, dobbiamo abbattere le liste d'attesa, sicuramente una priorità, ma mi sembra di poter dire che il lavoro che sta facendo Bertolasio stia iniziando a dare dei risultati concreti. E cambiamo decisamente argomento. Andiamo a parlare di scuola, di scuola in provincia di Bergamo. Recenti dati sulle iscrizioni per il prossimo anno scolastico hanno dato alcuni riscontri abbastanza a controtendenza rispetto a quella che è la storia dell'istruzione a Bergamo. Su tutti c'è il Sarpi, lo storico liceo classico di Città Alta che ha fatto registrare un meno 20% di iscrizioni. Noi siamo andati a chiedere agli attuali studenti il motivo, secondo loro, di questa debacle. Sharon Bordogne. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Temi insomma sempre molto caldi nelle aule delle scuole così come molto caldo è il tema del caro bollette. Luce e gas alle stelle ormai da almeno un anno. Ci sono però delle soluzioni come le comunità energetiche. Ci spiega tutto Silvia Valenti. Il caro bollette attanaglia privati cittadini, aziende ma anche amministrazioni comunali, enti pubblici, cooperative, scuole. Realtà chiamate a far fronte a costi energetici triplicati e per questo a ricercare soluzioni per l'abbattimento della spesa. Da anni il fotovoltaico in Italia sta prendendo piede anche grazie agli ecobonus per i pannelli solari o i contratti con il contributo dello scambio sul posto, il meccanismo che permette di mettere nella rete pubblica l'energia prodotta con l'impianto fotovoltaico ma non consumata e il conto termico che incentiva l'efficienza energetica degli edifici. Oggi però il tema è al centro del dibattito per l'affermarsi delle comunità energetiche che danno l'opportunità a diversi soggetti di unirsi per dotarsi di uno o più impianti per la produzione e l'autoconsumo condiviso di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'energia che in quell'impianto va a essere prodotto in eccedenza e che va suddiviso con i vari componenti della comunità energetica si chiama energia condivisa a livello virtuale. Questo principio che è un principio virtuoso viene premiato con degli incentivi importanti ventennali dal GSE. Siamo al nord Italia a 128 euro a megawattora. Un vantaggio per l'ambiente ma anche per il portafoglio con un risparmio medio in bolletta del 20% annuo a cui vanno sommati gli incentivi erogati su base ventennale dal gestore dei servizi energetici. L'agenzia Nova 21 calcola che sui tetti della Lombardia ci siano 12 gigawatt potenziali eppure la diffusione capillare che la disponibilità di superficie consentirebbe è frenata da complessità burocratiche. Una su tutte il ritardo del decreto attuativo da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Di questi aspetti si parlerà giovedì 9 febbraio alla Fiera di Bergamo nella serata informativa promossa da Ceres sulle comunità energetiche rinnovabili alle 17 per aziende, amministratori e addetti al settore mentre alle 20 e 30 sarà aperta a tutti i cittadini. Parliamo adesso di un bel progetto che è nato in Borgo Palazzo in uno dei padiglioni della SST, nota a tutti. Un progetto di co-housing che punta a dare sostegno soprattutto ai giovani, ai giovanissimi in difficoltà gli danno una seconda possibilità. Un bel progetto che ci racconta Sharon Bordogne. Grazie a tutti. Ci rimane l'inizio di un grandissimo progetto di co-housing perché oggi è il giorno in cui le famiglie finalmente entrano in questi appartamenti, appartamenti costruiti insieme a loro. Le famiglie sono state e sono e saranno le protagoniste di questo progetto. È un'avventura che è durata più di due anni, alti e bassi, momenti anche di difficoltà e di sconforto come il periodo della pandemia. Per oggi siamo veramente orgogliosi e felici che finalmente le famiglie entrano in questi spazi e che li abiteranno per i prossimi mesi. Noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con una seconda parte molto ricca dedicata allo sport. Seconda parte del nostro notiziario che apriamo con l'Atalanta sconfitta sabato sera nella trasferta di Sassuolo. Tanti gli spunti a cominciare da un tridente che tanto aveva fatto bene e che però sabato si è sgretolato anche a causa di alcune scelte di mister Gasperini. Luca Cavadini. L'unica certezza che rimane di Sassuolo Atalanta è quella decretata da Luis Muriel al sesto minuto di recupero verso l'arbitro della partita Marcenaro e cioè che il signore in questione sia scarso. La giusta considerazione è costata un rosso diretto perché oltre che poco lucido nell'arco di tutta la partita e poco coadiuvato dal tecnico Alvar Marcenaro è anche un tipo che se la prende. Insomma, scarso e permaloso. Al termine del match parla solo Marino. Il mister è troppo nervoso. È iniziata subito in salita perché già dopo pochi minuti è stato quell'episodio di Mele inspiegabilmente fischiato a nostro svantaggio poi è stato questo giallo trasformato in rosso in maniera incauta sono benevolo nel dire incauta ha commesso un errore ma più che altro torniamo a un metodo di giudizio che è quello del 21-22 che non va bene noi riteniamo che il calcio sia anche contatto fisico dinamicità è il bello del gioco del calcio il giorno di andata abbiamo visto degli arbitraggi molto europei dobbiamo continuare su questa strada oggi secondo me abbiamo fatto due passi indietro e abbiamo rivisto un po' i fantasmi dello scorso anno del giorno di ritorno dove qualche episodio tanti episodi ci hanno un po' condizionato la classifica a fine stagione l'episodio dell'espulsione di Mele non deve però trarre in inganno l'Atalanta ha giocato una partita sotto tono ed il Sassuolo avrebbe potuto anche dilagare se non fosse stato per le ottime parate di Musso tridente delle meraviglie ancora in stand-by solo Gasperini sa veramente il perché in più Luckman versione rallentata ed Ederson che resta un oggetto misterioso fanno il resto in queste partite nate male anche un pareggio sarebbe stato molto utile una squadra che punta alla Champions quest'anno deve fare bene i suoi calcoli sabato sera ore 20.45 si gioca nella capitale Sponda Lazio nulla di decisivo ma una convinta reazione dei nerazzurri sarebbe cosa molto gradita anche dalle sconfitte si guadagna in convinzione in voglia in determinazione e anche in rabbia dalla Serie A alla Serie C per parlare di una preziosissima vittoria conquistata dall'Albinoleffe che ha espugnato il campo del Novara 2-1 e ha ristabilito una distanza piuttosto rassicurante dalla zona play-out succede tutto nel secondo tempo al quarto minuto la sblocca Bomber Manconi poi il pareggio al 21esimo è realizzato da Gallupini ma dopo 5 minuti ci pensa Giorgione a siglare il gol decisivo andiamo a sentire le parole di Mister Biava nel post partita oggi sono contento sono contento della prestazione sono contento come hanno giocato i ragazzi è stata una partita sofferta ma siamo stati bravi a tenere bene il campo il primo tempo non abbiamo concesso molto a una squadra che crea tanto quindi siamo stati bravi a essere belli compatte a far creare poche occasioni a loro il secondo tempo invece abbiamo trovato subito il gol è stata una bella palla recuperata da Iancop a metà campo un'azione quasi personale ha fatto un gran gol e da lì si è accesa un po' la partita loro non ci stavano hanno cercato il pareggio a tutti i costi l'hanno trovato ma noi abbiamo reagito bene colpo su colpo e anche quando siamo rimasti in dieci la squadra ha lottato mi sono contento perché poi anche a Lecco secondo me abbiamo fatto una partita buona giusta due nostre ingenuità ci avevano avevano pagate e avevano portato via punti che poteva essere un bel pareggio anche a Lecco oggi invece sono stati cinici penso che la squadra abbia letto bene la partita in tutti i momenti sono contento per i ragazzi perché è una squadra che sa soffrire sa lottare a volte magari è sfortunata nei risultati ma penso che con questo atteggiamento possiamo far bene certo è che bisogna metterlo in campo sempre dal calcio al volley vittoria al cardiopalma per le ragazze del volley 1991 che hanno strappato un 3-2 a Cuneo prezioso in ottica classifica 20-25 25-19 25-16 13-25 10-15 i parziali che hanno consentito alle bergamasche di portare a casa il successo le ragazze del volley 91 sono ora settime con un buon margine in chiave playoff prossimo turno contro la temibile Novara restiamo a parlare di sport femminile sci alpino oggi sono iniziati i mondiali a Cuschevel Meribel e per l'Italia si è trattato di un inizio con il botto perché Federica Brignone ha vinto la medaglia d'oro nella combinata che prevedeva una prova di Super G e una di slalom speciale proprio nel Super G ha gareggiato anche la nostra Sofia Goggia che ha preso questo test come una sorta di ricognizione per le gare vere e proprie che la vedranno impegnata e protagonista nei prossimi giorni Super Gigante che si disputerà mercoledì 8 febbraio ma soprattutto sabato 11 la discesa libera per la cronaca Goggia quest'oggi si è classificata ventesima intanto domani combinata maschile con il Bergamasco d'adozione Mattia Casse al Via Super Gigante alle 11 slalom alle 14 e 30 anche per lui una sorta di test generale prima del Super Gigante che è una delle specialità che lo vedrà tra i favoriti per una medaglia andiamo a vedere adesso che tempo farà a Bergamo e provincia nei prossimi giorni si preannuncia la settimana più fredda dell'anno vi ritrovate ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo tracollo termico sull'Italia per l'irruzione di correnti gelide dalla Russia osserviamo più in dettaglio cosa ci attenderà dunque sulla Lombardia una situazione meteo buona tranquilla martedì torneranno a farsi strada delle belle schierite il clima è freddo invernale con temperature di orne ancora bassine attorno ai 5-6 gradi non oltre si scende anche considerevolmente sotto zero nella notte e all'alba attenzione alla formazione di gelate diffuse ora un focus sulla provincia di Bergamo situazione meteo buona martedì tempo stabile e assolato temperature massime attorno ai 3-5 gradi situazione analoga anche mercoledì il sole sarà prevalente avremo estesi rasserenamenti con poche variazioni termiche situazione preoccupante anche nei prossimi giorni sulle regioni settintronali proprio per l'assenza di precipitazioni ci attendono giornate soleggiate con clima ancora freddo seppur le temperature minime e massime avranno un lieve rialzo dettagli ulteriori sulle vostre località vi attendono come sempre sulla nostra api gratuita trebineteo non ci sono notizie dell'ultimo minuto io mi fermo qui vi ringrazio per l'attenzione ma restate su Sella TV perché c'è una serata ricca di sport l'informazione torna invece domani alle 19.15 a Grazie a tutti.